benvenuti a tutti per piacere mi raccomando i vostri se potete stoppare tutti i cellulari vi sono grato il cellulario e mettere su muto il vostro computer. Benvenuti a tutti, è un'occasione di stare assieme, condividere informazione, formazione, prevenzione e anche insomma di capire cosa possiamo fare quando finirà tutto questo e cosa potremo fare anche per gli altri, non solo per noi stessi. Da sempre per chi non mi conosce ci occupiamo di nutrizione nutraceutica epigenetica e ambiente e cerchiamo di mettere insieme i puntini su tutte quelle che sono le varie problematiche e su quello che si può fare per migliorare la qualità della vita delle persone. Quindi si sente parlare di terapia per carità importante quando dobbiamo salvare la vita e lo stiamo vedendo, poco si sente parlare di prevenzione, poco si sente parlare di sistema immunitario, poco si sente parlare di disfunzione mitocondriale, ancora troppo poco probabilmente di epigenetica e ancora troppo poco non siamo capaci di unire le forze, ognuno per il suo, la sua professionalità, la sua preparazione. C'è un po' di scollegamento. Ora voglio farvi un quadro generale di una mezz'oretta sull'introduzione su epigenetica nutrizione ma anche nutraceutica, anche ambiente, anche inquinamento. Quindi tutti quei fattori che condizionano la nostra salute, tutti siamo abituati a pensare che le nostre città sono altamente inquinate. L'abbiamo visto, anche se togli il traffico c'è un inquinamento esagerato. Il segreto della longevità, alcuni dicono, dovrebbe essere questi paradisi, ma noi sappiamo che è un insieme di fattori tra aria, magnetismo, energia solare, alimentazione, acqua. Noi siamo una macchina perfetta. Il professor Iorio mi insegnava nei suoi corsi. Noi siamo una macchina a idrogeno. Mangiamo proprio per produrre idrogeno e respiriamo per avere l'ossigeno. Oggi come oggi noi sappiamo molto bene che questo è limitato oppure condizionato. Sempre più condizionato da quello che è non solo l'ambiente ma tantissimi altri fattori. Nessuno vive in questo ambiente paradiso come l'Aba in Cina. A parte loro hanno moltissimi altri problemi nelle città, nelle megalopoli, ma qui ci sono anche dei paradisi. Allora, le domande che io mi sono fatto in questi giorni è, il tuo corpo, e me lo faccio da sempre, però voglio condividere con voi, il tuo corpo e il tuo atteggiamento mentale sono in armonia? Ti senti stanco, esaurito, incapace di concentrarti? E quanti oggi comunque hanno sempre più queste problematiche. E ancora, stiamo un po' cambiando i nostri ritmi, i bioritmi, basta pensare ai ritmi circadiani, abituati a un determinato lavoro, oggi costretti ad abituarsi ad altri tipi di lavoro, lo smart working, comunque sempre più a contatto con la luce blu, con le luci artificiali e non certo le luci dell'energia solare che ci permettono di ricaricare le nostre batterie, tra virgolette. Le radiazioni elettromagnetiche stanno condizionando la nostra salute e il benessere? Io dico moltissimo. Faccio sempre un esempio, compratevi questo libro che si chiama Wireless di Fiorenzo Marinelli perché è uno dei libri più interessanti con oltre 300 citazioni scientifiche che ci fanno capire se sono un problema. Già erano un problema il 3G, 4G, i wifi, il bluetooth, i wireless, pensate adesso con l'arrivo ai 5G. Pensate soprattutto i bambini. Quindi adesso che viviamo in ambienti chiusi non vogliamo lasciare questo cellulare perché dobbiamo essere connessi con il mondo. Diamo ai bambini il cellulare appena nati. Insomma è veramente un problema sociale, non solo di salute, è sociale. Poi vuoi conoscere quali alimenti interferiscono alla tua salute? Chi non lo vorrebbe sapere? Mangiamo dei cibi, ma per abitudine, ma probabilmente hanno dell'incompatibilità con la nostra salute. Abbiamo dei cibi a cui siamo sensibili? Probabilmente sì, lo sappiamo. Pensiamo quindi che questi fattori possano ragionare la nostra salute? Sì, lo sapete tutti, voi che siete del settore e anche chi non è nel settore, queste sono problematiche. Allora se oggi fosse possibile, io faccio sempre questa domanda, conoscere quali siano i fattori che interferiscono alla nostra salute. Quante persone pensate potrebbero essere interessate a capire, conoscere, da un punto di vista preventivo, predittivo, lavorare a 360 gradi, dalle carenze all'ambiente e dei fattori che interferiscono a livello neuroendocrino ed emozionale? Oggi possiamo sicuramente far scegliere le persone uno stile di vita diverso. Probabilmente è dura, ma con le pubblicità che tu dici una cosa e il guru del momento ne dice un'altra e la pubblicità ne dice un'altra è sempre più difficile. Oggi vige il doctor Facebook piuttosto che la ricerca scientifica e noi dovremmo, probabilmente arriviamo a far cambiare strada alle persone, però è sempre più difficile capire cosa ha bisogno quella persona, perché siamo abituati a dire hai questo, hai bisogno di questo, hai questo problema, hai bisogno di questo, ma mai che ci rendiamo conto o magari cerchiamo di capire che lui in effetti ha bisogno di delle cose che noi non sappiamo, perché non abbiamo una sfera magica, perché possiamo fare quante analisi dovremmo fare, far fare al paziente o alla persona per fargli capire cosa ha bisogno. Noi sappiamo che la nutrizione è fondamentale perché gestisce tutti i vari processi di fisiopatologia, ci stiamo dimenticando di fisiologia, ma di come funzionano le nostre cellule, ce ne stiamo dimenticando, perché si parla di bombe per l'organismo, per rimediare determinate situazioni, disfunzioni, pensiamo alla disfunzione mitocondriale, pensiamo a tutti, ma non pensiamo alla cosa fondamentale. E allora la domanda è qual è questa cosa fondamentale? È l'idrogeno e l'ossigeno. Le nostre cellule funzionano così, il resto, lo dico sempre, è optional. Sì, poi c'è gli zuccheri, c'è il glucosio, ci sono gli amminoacidi, c'è l'omega 3, la membrana cellulare, la lipidomica, quanto Pietro Pace ci insegna di quanto sia importante la salute della membrana cellulare e magari sarebbe bello poi, so che ci ascolta, averlo con noi per una lezione magistrale sulla lipidomica. Però noi sappiamo che la nostra salute dipendono da tutti questi fattori, ma non li mettiamo assieme. Ognuno parla o gestisce un certo tipo di fattore, ma non li mette tutti assieme. Pensate solo alla postura quanto è fondamentale in un individuo con la depressione, per esempio. È una cosa molto semplice, però è così. I studi hanno dimostrato, certe, che cambiando la postura si cambia l'umore, ma anche certe carenze specifiche. E poi i campi elettromagnetici, le emozioni, quindi questo discorso emozionale. Certo, un trauma emozionale fa accusare determinate patologie, lo sappiamo, ma sappiamo se quella persona ha anche un reale rischio congenito, ha un'infiammazione silente e quindi tutte le altre cose possono scatenare quel problema? Ci abbiamo mai pensato? Probabilmente no. il nostro grande Sergio Stagnaro ci dice, attenzione, perché c'è un'infiammazione silente che è l'istangiopatia congenita acidosi enzimo metabolica, che potrebbe essere dipendente da una disfunzione microcircolatoria, disfunzione endoteliale e disfunzione mitocondriale, soprattutto il DNA mitocondriale linea materna. E poi oggi comunque dobbiamo fare i conti quindi con l'epigenetica, cioè tutti quei segnali che poi vanno a gestire la metilazione degli istoni, ma senza modificare il genotipo. Questi poi alla fine sono i segnali che influenzano la nostra salute. Allora l'ambiente agisce sui geni? Sì, i geni vengono condizionati perché a livello istonico bloccano lo srotolamento e questo naturalmente crea malattia, crea infiammazione, riprogrammazione, crea problematiche. Come ci insegna il professor Biava, noi dobbiamo gestire la riprogrammazione epigenetica delle nostre cellule, perché se perdiamo i fattori di riprogrammazione cellulare epigenetici andiamo incontro a malattie, sappiamo la neurodegenerazione, sappiamo le patologie oncologiche, ma anche proprio abbiamo visto gli studi che lui ha fatto sul proprio la capacità della riprogrammazione epigenetica di rimodulare le nostre cellule e quindi incominciare a correggere gli errori a livello cellulare. Quindi è interessante questo. Però abbiamo ahimè questi fattori che per gestirli è sempre più dura. L'allarme junk food, zuccheri e grassi è un aumento, se il grasso è buono sappiamo che è indispensabile, ma certo, non certo il junk food. I metalli pesanti, ne parliamo, molti lo sanno di voi, ma altri proprio non ci pensano a quanto il metallo pesante può essere dannoso a livello, nella neurodegenerazione. Basta pensare agli studi, a oltre 210 studi pubblicati, la professoressa Mariana Ferrero, basta pensare al dottor Mariani, la terapia chelante. Quanti risultati hanno avuto in queste persone altamente intossicate da metalli pesanti, alluminio, mercurio, cadmio, con la terapia chelante, per esempio. Abbiamo pubblicato degli studi con l'apporto dell'ossigenazione di self-food con queste terapie. Quindi quanto i metalli pesanti condizionano la salute dei pazienti? Ma non se ne parte. La tossicità dell'ambiente, ora abbiamo tolto il traffico e l'inquinamento, molto dell'inquinamento c'è ancora, soprattutto nei luoghi di vita, dalle 3 alle 4, 5 volte più inquinato che all'esterno. Manca l'ionizzazione dell'area nei ambienti chiusi, dell'area condizionata. Vogliamo parlare dell'infezione ospedaliere che già ho fatto vedere molte volte, oltre 50.000 infezioni che nascono negli ospedali dovute all'area condizionata, eccetera. E questo accade anche nei luoghi dove lavoriamo, quindi nelle case, ma in tutti i luoghi. Vogliamo parlare dei 460.000 morti l'anno in Europa? Stiamo parlando della strage degli innocenti, perché i bambini sono sempre più costretti a respirare un'area malsana, soprattutto pensate nei passeggini. Quindi l'area si deposita a circa un metro e coi passeggini all'ore di punta continuano a respirare come un fumatore, si intossicano i loro polmoni. E lo sappiamo. Le associazioni dell'Aipo, l'associazione dei pneumologi ospedalieri, ce l'ha sempre detto, studi importantissimi. Ho un libro importante sulla fisiopatologia dell'Aipo già nel 2008, 1998, che parlava di quanto sia grave l'inquinamento. Pensate ora a che punto siamo, ma pensate anche al fumo passivo. E in questo momento, attenzione ai fumatori, che lo dicono in tutte le salse, i pneumologi stanno mettendo in guardia perché chi fuma ha un rischio molto più elevato di sopravvivenza riguardo a quello che è la pandemia. E poi queste cose non le dobbiamo dimenticare, perché magari ci mettono un muro, non le vedi, ma queste cose ormai sono un'altra pandemia della nostra società. E questo è Italia, non è chissà dove, è Italia. Quindi compriamo pubblicità e viviamo in un mondo un po' alterato? Sicuramente sì. I campi elettromagnetici sono un problema? Sì. Sono un grosso problema perché oggi si sente parlare sempre più di queste associazioni che stanno nascendo, Stop 5G. noi, beh, naturalmente non possiamo vivere senza tecnologia, lo sappiamo, ma dobbiamo assolutamente difenderci, dobbiamo proteggerci. Perché noi funzioniamo energia, siamo un sistema biofisico. Non possiamo permettere che un bambino possa utilizzare un cervello, attaccare al suo cervello un cellulare appena nato. Guardate a cinque anni, ma pensate a un mese, due mesi. Pensate già i genitori nella pancia della madre, un figlio nella pancia della madre, un feto, cosa può subire di interferenza a campi elettromagnetici? Non solo il cellulare, ma tutto il resto. Pensate quindi quanto possiamo fare per gli altri. Possiamo creare cultura, fare informazioni, stare molto attenti. Viviamo così. Oggi più che mai, vedete, in casa e a dormire. Quindi spingiamo wifi prima di andare a dormire. Mettiamo il telefono fuori dalla stanza. Ma creiamo cultura verso i nostri ragazzi, i nostri figli. Bisogna dirglielo. Poi ognuno pensa di farsi del male come può, però questo è fondamentale. Altera l'equilibrio a livello proprio mentale. Allora tutti gli effetti li sappiamo. Le frequenze elettromagnetiche ci danneggiano. Io voglio in questo momento fare un omaggio al mio amico Massimo Fulgini che mi aveva prestato queste slides e ve le propongo perché i campi elettromagnetici invertono la polarità. Quindi se invertono la polarità proprio della nostra presenza a livello proprio sociale nella nostra vita. Quindi c'è anche un'inversione della polarità biochimica. E questo non va assolutamente bene perché nella cellula esce dentro ciò che non dovrebbe. Quindi si cambia. Spingete i microfoni per favore. Chiudete i microfoni per piacere. Per piacere chiudete i microfoni. E quindi c'è un'inversione della polarità. C'è quindi dobbiamo assolutamente lavorare affinché incominciamo a prevenire questi danni. Guardate dalla natura. Noi ci stiamo scostando dalla natura. Non siamo qui in linea. ma le domande che sorgono sono spontanee. Dice il mio amico Fulgini. Dice possiamo afferra meno delle oale tecnologie? No. C'è poco da fare. Guardate un po' dove siamo. Per fortuna possiamo comunicare grazie alla tecnologia. Ma allora cosa possiamo fare? Dobbiamo proteggerci. Dobbiamo rinforzarci. Dobbiamo adattarci. Dobbiamo capire, probabilmente, cercare di modulare il nostro sistema immunitario, a cominciare dalla carenza di ossigeno, dalla funzionalità cellulare, dal evitare il danno al DNA mitocondriale, oppure riparare il danno mitocondriale congenito che ognuno di noi non sa di avere. Dovremmo capire che dall'unione di questi concetti e delle tecnologie e antiche e moderne può nascere una soluzione. Massimo Fulgini ha studiato tanti anni, lui è vent'anni che studia questo, e ha sviluppato l'Ibratum. Ve lo dico perché è un prodotto straordinario che si chiama Undis. quindi il riposizionamento, il corpo energetico nella corretta polarità, ricentra il canale centrale energetico umano e quindi ci permette di trasformare il rumore in musica. Quindi maggiore energia, più equilibrio, più protezione. E pensate quanto è importante oggi. Poi noi naturalmente ci sono tantissime ricerche, chi è interessato può richiederle e si applica da tutte le parti. E poi noi proponiamo anche questa smart card straordinaria, rivoluzionaria, vi assicuro che è veramente il top. Ma andiamo oltre. Le informazioni epigenetiche permettono quindi la comunicazione attraverso la vibrazione e la risonanza. Siete d'accordo sicuramente che è così. Il corpo è controllato da interazione, quindi armonica interazione, responsabile proprio di questa situazione. Noi possiamo rilevare, ricavare questi segnali e creare un'impronta digitale. Un report personalizzato per ogni situazione e ogni persona. Dove vive, dove dorme, dove lavora. Perché noi sappiamo che non si lascia tutti uguali e nessuno vive e mangia le stesse cose. E pensate all'ambiente. Non voglio dilungarmi su la terra dei fuochi. Pensate da Brescia a Bergamo cosa sta accadendo, ma cosa è accaduto? Cosa è accaduto a Priolo? Cosa accade a Taranto? Cosa accade appunto nella terra dei fuochi? Questi bambini che nascono sempre più malati, ma perché le madri vivono in un ambiente, come ci insegna il professor Burgio, che altamente condiziona dal punto di vista epigenetico il feto e quindi i bambini sempre più a rischio. Parasionalmente i tumori, come dice il professor Burgio, sono in aumento da 0 a 2 anni. I primi 1000 giorni di vita dovrebbe essere il nostro obiettivo. Salvaguardare le future generazioni, fare qualcosa di importante per loro. E allora se le patologie si sviluppano a livello cellulare, noi dobbiamo iniziare a partire dalle nostre cellule, la barriera, le cellule epatiche, eccetera, che lo sapete. Ma chi è che pensa alla salute delle nostre cellule? Chi è che pensa a quanto sia importante quando diamo un nutraceutico o quel tipo di alimentazione quanto questa sia biodisponibile, assimilabile, assimilata? Se c'è o non c'è una disfunzione a livello intestinale, se ci sono dei cibi che hanno magari degli additivi e noi non lo sappiamo, hanno degli interferenti endocrini e non lo sappiamo, a cominciare dall'acqua che beviamo, sempre più contaminata. E quindi tutto ciò intossica in maniera ubiquitaria il nostro mesenchima, il tessuto connettivo, la matrice. Quindi condiziona la possibilità di scambiare comunicazioni, segnali a livello cellulare e di proteggere la nostra membrana cellulare e far passare quelle cose giuste, importanti per arrivare a produrre l'energia per la vita. È certo che se siamo sempre più intossicati, l'ossigeno ne arriva poco. Se la respirazione non è adeguata e quella respirazione è malsana, l'ossigeno arriva pochissimo. Allora la prima cosa che dovremmo pensare è fisiologia, fisiopatologia. Poi Allegrini andrà molto sul clinico. Io sto facendo un discorso tecnico. Quindi 4 su 10 muoiono di infarto icto. Sì, sono vere e proprie pandemie. Allora se prevenire è meglio che curare? Mettiamo in moto, rimettiamo in moto la produzione di ATP a livello mitocondriale. Occupiamoci del vecchio e famoso ciclo di Krebs, della respirazione mitocondriale, che è fondamentale. Quali nutrienti? Cosa mangiamo? Cosa respiriamo? Ma soprattutto in che ambiente. L'ambiente condiziona la nostra vita non solo da un punto di vista mentale e lo sappiamo, vivere, lavorare in un ambiente positivo o negativo o malsano, ma dobbiamo stare molto attenti per la produzione di ATP a livello mitocondriale. Perché senza ossigeno c'è sicuramente uno stress tossico, emozionale, un trauma e quindi un'infezione, tutto dipende dal fatto che la carenza di ossigeno provoca acidosi. L'acidosi provoca stress ossidativo e lo stress ossidativo provoca infiammazione. Ecco che preoccuparci di un negato apporto di ossigeno, ma lo vedete in questi giorni. Cos'è? Di cosa abbiamo bisogno oggi per salvare la vita le persone? Di respiratori, di ossigeno. E mi dispiace pochissimo che non hanno potuto introdurre anche lo zonoterapia, che potrebbe essere un'altra forma importante. Quindi l'ossigeno è la prima fonte di vita, ma te lo danno solo quando sei in fin di vita. Dammelo prima per fare prevenzione. Dammelo prima. Lo dico in tutti i seminari da 21 anni. Poi l'omocisteina, le carenze nutrizionali di vitamine. Basta pensare ai fattori della rimetilazione del DNA. Non si può pensare solo alla vitamina D, che è importantissima, o alla vitamina C, che è fondamentale, lo sappiamo. Ma la metilazione ci vuole la B6, i folati, la B12, la metionina. Il fegato depura il suo organismo grazie all'omocisteina, all'estodesimetionina, scusate, all'assame. Quindi fondamentale queste cose. Glutatione. E sappiamo quanto l'omocisteina. Pensate, ogni punto sopra 10 raddoppia, anzi sopra 6, dice il grande Mauro Miceli, un maestro su questo argomento, ogni punto sopra 6 raddoppia il rischio cardiovascolare. Ma vedete, guardate, questi sono studi, pubblicazioni, tutto quello di cui parlo è tutto pubblicato. Allora bisogna fare attenzione, perché anche se noi, vedete, ogni punto sopra 6 raddoppia il rischio cardiovascolare e non solo. Allora dobbiamo cosa fare? Dico, innanzitutto non abbiamo molta scelta di cambiare città. Adesso siamo tutti confinati nelle nostre case, ma poi ritorneremo un giorno al lavoro nelle nostre case, si spera a tutti e ve lo auguro con tutto il cuore. Quindi, ma il sistema immunitario dobbiamo pensarci prima, non adesso con tutte le problematiche che abbiamo. Rafforzare il sistema immunitario. Capire che l'uomo ha l'età dei suoi mitocondri e la salute, la sua salute dipende dal DNA mitocondriale. Lo dice la Fondazione Medicina Mitocondriale, andatevi a leggere questi studi sulla Fondazione Medicina Mitocondriale, migliaia di studi. C'è Mitocon, che è un interessante e importante sito, associazione. Quindi la disfunzione mitocondriale è legata a tutte le patologie, questo è pubblicato. allora ricaricare le nostre batterie, ottimizzare l'epigenoma. E quindi quello che dico è questo, guardate. Com'è possibile che una cellula sia totipotente e possa differenziarsi in una melanocita, linfocita, caranocita, epatocita, una cellula da plasmatica, una cellula neofrona, una cellula neuronale, un ovo, uno spermatozono. Come fa? Come fa? Dipende dall'ambiente dove si trova, lo sappiamo. Perché all'inizio le cellule sono tutte uguali. Allora dobbiamo capire che l'epigenetica e l'ambiente fa la differenza, sempre, per la nostra salute. Dobbiamo tutelare soprattutto, come vedete, vedete qui, dobbiamo tutelare la salute dei padri e dei madri prima del concepimento. Dobbiamo lavorare soprattutto sulla salute dei padri e delle madri prima del concepimento, perché cellule sane si moltiplicano in maniera sana e si differenziano in maniera sana e danno al mondo bambini sani. Ma non è possibile vedere le donne che smettono di fumare solo quando sanno di essere incinta. Devono programmarsi prima. Oppure basta pensare agli interferenti endocrine di qualsiasi sostanza chimica che conoscete, disinfettanti, glicfosfato, pesticidi. Ma gli stessi tatuaggi, bisogna stare molto attenti, entrano nel linfatico, vanno nei linfonodi e quindi comunque intossicano il nostro organismo. E sappiamo che a livello epigenetico queste cose vengono trasmesse alla terza, quarta, quinta generazione. Ce l'ha insegnato l'Istituto Tumori anche di ricerca sul cancro, lo IEO. Andate a cercare queste cose e vedrete che trovate anche queste informazioni. Quindi le malattie sono trasmissibili, il dono della vita, dobbiamo proteggere la vita. Noi ormai abbiamo la nostra età, io ormai 80 anni non lo dimostro, però insomma, bisogna stare molto attenti. Cosa fare? Allora mettiamo a posto la produzione di energia ATP a livello mitocondriale. Attenzione all'ipossia, che è una condizione che si trova una cellula con adeguato apporto di ossigeno. Mettete a posto l'ipossia, ipossica, stagnante, estotossica, ce ne varie, ma è subdola, è microcircolatoria. Il problema è lì, è dipendente dal microcircolo, apporto di ossigeno, disfunzione mitocondriale, DNA mitocondriale. Inizia di lì e poi l'ischemia riperfusione, ictus, infarti, emorragie. Nello sport, nello stesso recupero dello sportivo, se non è ben allenato, con una bella capacità antiossidante, come fa a contrastare l'eccesso di radicali liberi che comunque produce in allenamento o in gara? Grazie a un adeguato apporto di ossigeno e di antiossidante. Quindi è fondamentale. Cosa fare? Proteggersi e prevenire l'infiammazione. Ricordatemi, la prima fonte di infiammazione è la carenza di ossigeno. Perché senza ossigeno produci solo due molecole di ATP, con ossigeno 36 molecole di ATP. C'è poco da fare. Questa è fisiologia. E ce lo diceva Geaton, che qualunque problema nasce da una carenza di ossigeno. E Geaton, poi Warburg, premio Nobel nel 31, ma non solo. L'anno scorso il premio Nobel è andato a semenza ai suoi colleghi per aver proprio riscoperto l'importanza dell'ossigeno per la nostra salute. E poi ce lo dicono anche questi studi. Se volete poi me lo chiedete, ve li mando queste diapositive. Siamo abituati a fare terapia, ma terapia quando siamo in mancanza d'aria e stiamo per morire o abbiamo problemi di salute. Io sto parlando di prevenzione. Tutte queste terapie, seppure importanti quando è troppo tardi, ricordatevi che in alcuni casi aumentano lo stress ossidativo. Quindi bisogna dare anche un adeguato apporto di antiossidanti. L'ozono è molto utile, molto utile, anche come prevenzione. Allora noi, come sapete, da sempre, da 21 anni, abbiamo fatto ricerca su questo nutraceutico che si chiama Selfood. È un modulatore fisiologico di ossigeno. Prende la molecola dell'acqua, carica negativamente l'ossigeno, si lega i radicali liberi e fa un'azione antiossidante formando ossigeno. Se l'ossigeno non serve, si lega l'idrogeno e riforma acqua. Questa è una modalità esplicativa semplice, naturalmente è più complicato, ma per fare capire. Ha una capacità antiossidante 30 volte più elevata del plasma a mano, quindi se avete a che fare con gli antiossidanti, qualsiasi, non dico questo, ma qualsiasi altro, chiedete qual è la capacità antiossidante del tuo prodotto antiossidante? Se non ce l'ha, non è un antiossidante. Aumenta il consumo di ossigeno con una capacità antiossidante 30 volte più elevata del plasma a mano. È un colloide, abbassa la tensione superficiale e quindi la biodisponibilità, l'assimilazione e la forma di somministrazione è avvantaggiata. Pensate che l'assimilazione sublinguale è superiore a qualsiasi altra forma di somministrazione, sia spray che sublinguale. Assolutamente a tossico, se ne può bere anche 400 grammi tutti insieme e poi se avete bisogno di alcune informazioni ve le passo, ricordatevi che quello che vi dico è anche pubblicato e consigliato dal giornale di riferimento per i medici. Poi c'è tutta la linea tutte le pubblicazioni medico-scientifici che le trovate su PAMED, quindi quello che vi dico è dimostrato anche da un punto di vista con pubblicazioni e lavori scientifici sia in vitro che in cellule, sulle cellule che in vivo, quindi anche su 230 pazienti con patologie neurodegenerative. Non è qui adesso il caso di presentarvi questi studi. Cosa voglio dire? Voglio dire che il giusto equilibrio nutrizionale lo troviamo se mettiamo a posto anche l'ambiente dove viviamo e lavoriamo, anche altri fattori. Non possiamo continuare a fare benzina, io dico, o rifornimento alla nostra macchina se il motore non va. Quindi mettiamo a posto il motore, mettiamo a posto la carburazione, quindi le nostre cellule devono funzionare in maniera perfetta. Se quello funziona poi assimiliamo tutto. Anche il microbiota dipende da una disfunzione mitocondriale, da un dovuto apporto di ossigeno ai nostri tessuti, alle nostre cellule, ma non ci pensa nessuno e se qualcuno vuole gli mando gli studi anche su questo. Allora, noi come sapete proponiamo un test molto importante perché preleviamo 4-5 bubbi del capello, li mettiamo su uno scanner e in 10 secondi questo scanner fa un'analisi biofisica, come un elettrocardiogramma, un cefalogramma, una risonanza magnetica. Cosa sono test biofisici? Questo legge sul bulbo del capello tutti i fattori, lo spettro di frequenze, quindi la lunghezza d'onda del bulbo del capello, di tutte le informazioni e ricava un report per ogni singola situazione specifica di quella persona. Quindi carenza nutrizionale e impatto ambientale, il sistema neuroendocrino emozionale. E quindi viene decodificato e ci dà un report, grazie proprio a queste onde che vengono captate, grazie alla fisica quantistica e alla biofisica. Non stiamo parlando dell'altra medicina, stiamo parlando della medicina per eccellenza, come ci insegna il professor Spaggiar. La fisica quantistica, la teoria fisica descrive il comportamento della materia. Tutto funziona grazie ai fenomeni ondulatori e sia al fatto della fisica delle particelle. Quindi è fondamentale studiare anche questo aspetto che magari viene sottovalutato ed è la base della nostra vita. Allora il DNA è l'epigenoma umano, il corpo umano è composto a trilioni di cellule, ogni cellula possiede il proprio genoma rappresentato dal DNA. Noi non possiamo più pensare di valutare la persona per il 2% del DNA e poi considerare il 98% spazzatura. No. Il 98% è epigenetica e ha un ruolo fondamentale per la nostra salute e la nostra vita. Ha un impatto importantissimo. Io dico, ma prendi il 98% di un milione o prendi il 2% di un milione? C'è un po' una differenza, sì o no? E nella nostra salute penso che la differenza la faccia allo stesso modo, il 98% piuttosto che il 2%. Ma ancora oggi parliamo solo di DNA, di predisposizione. No. No. Come dicono sempre, e quindi questa la faccio anche mia, la rivoltella è il DNA, ma il grilletto che fai scoccare è epigenetica. Tutto è epigenetica, dice il professor Burgio. Allora i capelli contengono tutte le informazioni, archiviano tutte le informazioni comprese i metalli pesanti. Se noi le mettiamo, facciamo una mappatura epigenetica, le mettiamo sopra questo scanner che è un biofisico, leggiamo il bubolo del capello e possiamo ricavare tutte le informazioni. Vi ricordo che le frequenze sono la nostra vita, il nostro cervello funziona a frequenza, gli stati della nostra vita sono frequenze. Ma ancora noi ci stiamo allontanando troppo da questo concetto. Lo stiamo dimenticando, lo stiamo accantonando. Noi dobbiamo mettere, fare una medicina integrata per la prevenzione. Quindi allinearsi con la natura, che sarà sempre più difficile, e avere un report che ci indechi la strada da seguire per ottimizzare la qualità della vita delle persone. Attraverso dei consigli, noi attraverso un report possiamo dire alle persone se devono intervenire con priorità, oppure è un intervento consigliato, oppure non ne hanno bisogno. E quindi capire quali sono i nutrienti di cui ha bisogno, preparare una dieta ottimale, sapere quali sono le sfide ambientali su cui intervenire, gli indicatori di resistenza, il sistema gastrointestinale, il sistema immunitario, adesso avremo un nuovo report che ci dirà dove intervenire per aumentare il sistema immunitario di quella persona, le interferenze con i campi elettromagnetici. E poi un piano nutrizionale per 90 giorni e quindi intervenire e capire, guidare la persona a prendersi cura di sé. Cioè capire, guarda, dormi col cellulare? No, il cellulare mettilo fuori dalla stanza. Dormi con il wifi? Spengi il wifi? Sei intossicato da metalli pesanti? Cosa stai mangiando? I trucchi? Fai attenzione quando fai la spesa, leggi le etichette. Insomma, tante informazioni che possono fare la differenza. Il radon, i raggi gamma, dove dormi, dove lavori? E quindi permettere di rigenerare queste proteine, le cellule, i tessuti in una maniera sana, più consapevole, essere più consapevole. Non facciamo diagnosi. E diagnosi la fa il medico con i suoi, già ci sono tante possibilità di fare diagnosi. Non parliamo di malattia. Parliamo di miglioramento della qualità della vita. Parliamo veramente di cambiare un paradigma. E quindi semplice, veloce, tecnologia non invasiva, aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Questo è la potenza dell'energia dello spinning. Questo è S-Drive. Possiamo averlo anche per lo sport. Possiamo ottimizzare e capire se hanno bisogno di aminoacidi, se è intossicato, se i campi elettromagnetici, il sistema antiossidante. E possiamo intervenire subito. Pensate che la risposta di questo test si ha in 12 minuti. Non dopo una settimana, 10 giorni, 12 minuti. Penso che potrebbe essere un'ottima idea per migliorare la qualità della vita nostra, dei nostri cari, ma delle persone a cui veniamo in contatto. Io vi ringrazio di cuore, vi ringrazio dell'attenzione.